Salve gente, sono Sir Larus e questa è la mia armata. Uomini scozzesi venuti qui per combattere per la madre patria. Voi venite da Stirling, alcuni da Glasgow, altri da Edinburgh, oppure altri ancora sono degli immigrati qua in Scozia. Ma tutti abbiamo lo stesso ideale, combattere e difendere la Scozia in tutto il mondo, sia a casa nostra, sia nella casa di quei bastardi di Norvegesi. E io sono Larus, il vostro comandante. Salve gente, eccomi qui su Mountain Blade Warband, anno domini 1257. Questa qua non è proprio la stessa partita di prima, perché l'ho reiniziata perché hanno messo una nuova edizione di questa beta e hanno fatto i cambiamenti molto importanti. Ok, però non vi siete persi nienti di che, sono andato un po' avanti e ho reclutato questi uomini. Adesso il nostro compito era di saccheggiare delle città norvegesi perché la Scozia è entrata in guerra contro la Norvegia. Ok, ho fatto un po' di saccheggio e quindi avevo l'idea di tornare subito a casa. Aspetta, qua ci sono dei banditi eh. Ah, banditi, venite qui, venite qui. Ok, uomini, siamo in una tempesta di neve. Questi sono banditi, conoscono queste terre meglio di noi. Facciamo attenzione, teniamo questa posizione. Molti di voi arcieri faranno fatica a colpire, però dovete stare calmi e fare ciò che vi viene detto. Voi cavalieri state in questa parte qua della collina. Venite qui. Finché è epico questo gioco. Ok, venite qui. Qui, qui, va bene. Guerrieri. Ok, vediamo come sono posizionati in prima linea delle lance, va bene. Facciamo una formazione. Un muro di scudi. Ok, dove sono? Fatemi dare un attimo un'occhiata. Eccoli lì. Stanno arrivando gente. Pronti. Fate fuoco. Questo muro di scudi potrebbe andar bene. La mia tattica era farli avanzare verso gli scudi. Ok. Voi... Oh, cazzo. Voi... Oh, cazzo, cazzo. Attaccate. Cavalieri. Carica. Carica. Mi è epico. Epico questo gioco. Oh. Mi si è rotta la mancia, cavolo. Eccolo lì. Dove scappi? No, cavolo. L'ho mancato. Oh. Dove scappi? Bandito norvegese. Bene. Chi è rimasto? Nessuno. Che gente abbiamo vinto questa battaglia? Continueremo a dominare sempre. Oh. Che figo. Aspetta, posso prenderli... Oh. Wow. Ma posso prenderli le loro gambe? Che schifo. Le loro gambe. Perché dovevo riprendere le loro gambe? Andiamo avanti. Ok. Neanche il tempo di fare due... Passi. Abbiamo già trovato altri banditi. Ok. Gli arcieri avevo l'idea di lasciarli su questa collina qui. C'è gli arcieri, i balestrieri. No, più qui. Ok. Invece, i miei altri uomini, voi altri, venite davanti agli arcieri. Ah, arcieri, sparate a volontà. La cavalleria dove la lascio? Magari forse al lato. Sempre. Ok. Ok, qui. Può andare. Ok. Vediamo che riusciamo a fare. Vai, continuate a sparare. Ne beccheranno qualcuno, però. Fermi. Aspettiamo che ingaggino i miei guerrieri con lancia. E poi dopo posso fare una carica di cavalleria. Ok. Caricate. Attacchiamoli. Scappate, dove scappate. Che cazzo fa? Questo qua va in battaglia con una... Con un banner. Come si chiamano? Oh, cavolo. Merda. Dove scappi? Oddio. Oh, mi hanno salvato la vita i miei uomini. Cavolo. Me l'avevo vista brutto sto qua con la città che andava verso di me. Oh, ok. Battaglia vinta. Neanche una perdita. Oh, no. I norvecesi hanno saccheggiato Iverness. Banditi, sentite le cordamuse? Queste sono le cordamuse della morte. Queste annunceranno. Che la vostra morte è ormai prossima. Uomini, salite su questa collina. Soprattutto voi, arcieri. Ok. I cavalieri utilizzarli nei boschi non è una buona idea perché contro gli alberi si possono un po' inceppare. Cioè, i cavalli non è che si muovono benissimo nelle zone in cui ci sono tanti alberi. Però, almeno, possono comunque fare il loro sporco lavoro. E quindi le cordamuse scozzese. Epiche. Ok, solita tattica. Sapete che tattica fare, uomini. Guardate gli scudi del mio stemma della Fenice. del qualsiasi cosa che sia. Vado a dare un'occhiata a quanti sono. Un po'. Dove reclutare più arcieri. Ce ne ho pochi. Guardate questi uomini qua, valorosi. Pronti a tutto, pur di servire il proprio leader. Ok. La cavalleria. Bene. Pronti. Che intanto... Garceri. Ritiratevi. Cavalleria. Carica. E fanti caricate. Bene. Carica. Uh. Fatto male. Oh, cavolo. Dai, uomini. Attaccate. Mig. Veramente glorioso. Oh, cavolo. Uh. Devo stare a... Far attenzione, però. Tutti qua. Saranno dei banditi, però. C'è un po' di attenzione. Tu dove scappi? Mi. Bravo. Che colpo da maestro. Ti farò... Mio tenente. Posso farti tenente? Dai. Fammi parlare con te. Uh. Abbiamo di nuovo vinto, però, gente. Questa è il leadership. Progetto. Comito, ad esempio. Ah, ci sono sti qua che vogliono entrare in battaglia con me. Mmm. Chi è che... Può avvimpire meglio sto compito? Mila espro comunitas. Ah, non so che cazzo so. Ok. Eh. E che faccia che c'hai? Anzi... No, ma tutti hanno delle capigliature strane. Ah, io prenderò te perché tu hai una faccia da super figo. Velgritas. Ok. Però si servono 300 oro per reclutarlo, ma va bene. Secondo me tu sarai un ottimo combattente. Alla prossima... Alla prossima... Grazie per la visione!